Investire sugli uomini, sulle loro idee, questa filosofia ha guidato da sempre il nostro gruppo e ci ha permesso di diventare leader di settore. Nella fabbricazione di apparecchi elettrici e di illuminazione, nella commercializzazione e installazione di grandi impianti, nella fornitura dei materiali elettrici e nell'automazione, abbiamo investito nel sociale con la ristrutturazione di Villa Maria Venafro, lavori in corso di realizzazione e dando un'opportunità a tanti giovani sportivi con il Palace Carabeo. Continueremo su questa strada perché crediamo nel valore dei buoni prodotti e nella forza della cultura. Gruppo Scarabeo. Idee per crescere.